Siamo con il Presidente Sant'Andrea per quanto riguarda questa tredicesima edizione della Coppa d'Otunno alla sua prima edizione come Presidente del Club Amici di Auto e Moto d'Epoca di Melfi. Sì, certamente questa qua è la mia prima esperienza, sono stato eletto Presidente a gennaio di quest'anno e chiaramente come prima esperienza c'è un entusiasmo notevole da parte mia perché mi cimento per la prima volta in questo tipo di gara e la nomina Presidente ha fatto sì per che io mi procurassi già una macchina d'epoca perché un Presidente senza macchina non era possibile e quindi ho acquistato una macchina che ho fatto restaurare e che domenica parteciperò alla gara sperando di vincere chiaramente. Io vi seguo, so che la passione non è solo passione proprio perché ha già preso una macchina ma ha già partecipato anche ad un altro momento quindi segno che comunque il Presidente è anche il primo che si mette non solo a lavorare ma anche quando c'è da gareggiare. Certamente, la passione mi è venuta perché negli anni precedenti nelle altre coppe, in altre manifestazioni che si sono svolte in Basilicata ho fatto da navigatore e quindi ho avuto modo di vedere la saporare la bellezza di fare delle gare di irregolarità. Avete portato avanti una bella manifestazione che è data di 3949 ci avviciniamo al settantesimo, ci sono state dette anche delle belle cose forse qualcuno l'ha dimenticato in conferenza stampa la possibilità di fare il musico della moto visto che avete fra voi il socio Antonio Nigro che è molto esperto da questo punto di vista e sarebbe anche riportarlo un po' alla tradizione però intanto questa continua crescita, il numero dei partecipanti l'allargare comunque anche il contesto e soprattutto dare sempre l'importanza al turismo nella nostra zona così importante diventa un'ultima voglia di andare avanti stimoli ancora per fare sempre meglio anno dopo anno. Certamente, noi abbiamo avanzato già presso il Comune la possibilità di acquisire una struttura che attualmente non è utilizzata quindi ristrutturare già questa struttura e mettere delle macchine, delle moto infatti molti soci hanno il problema di dove parcheggiare le macchine beh, questo museo che noi vogliamo fare potrebbe essere anche il luogo dove far sostare le macchine nel periodo invernale o molto caldo quando non ci sono gare o manifestazioni. Ci aggiungo potrebbe essere anche l'utilizzo di altre persone far avvicinare altre persone, magari più grandi, più giovani anche i giovani stessi ha questa bella passione magari un po' costosa ma che può aumentare il gruppo su cui lavorare poi in sé No, non direi che è molto costosa beh, una macchina d'epoca, bisogna vedere una macchina da restaurare diciamo che una passione un po' costosa, almeno per recuperare la macchina ma la macchina proprio viene a costare poco è il restauro che costa di più però ecco, quando c'è passione uno può evitare semmai altre spese quale per esempio il fumare o quant'altro è chiaramente dedicarsi ad una passione perché ripeto, io mi sono avvicinato a questa associazione facendo il navigatore che è stata una cosa bellissima grazie e buon lavoro grazie a lei siamo nel contesto giusto, sono in casa dell'ACI e soprattutto con il Presidente dell'ACI 1949, quasi 70 anni di una coppa d'autunno che anno dopo anno cresce e dimostra quanto in Basilicata non solo nel Vulture, c'è voglia di autostoriche e di binomio tra autostoriche e turismo ha detto giusto, binomio turismo e autostoriche è chiaro che questa manifestazione è un mezzo per far conoscere il nostro splendido territorio della Lucania a tutta l'Italia lei ha ringraziato gli organizzatori che fanno anche dei sacrifici ma l'ACI è sempre vicino a chi comunque crede nella possibilità di prendere magari una vecchia auto ristrutturarla, dargli questa passione e poi farla vedere perché queste sembrano un po' le donne che hanno buttato la carta in ditanca ma sono ancora orgogliose di poter essere in giro dimostrare che sanno fare, provvedibilità, di regolarità ma soprattutto diventano l'occasione per chi poi arriva in Basilicata per far conoscere il nostro contesto da questo punto di vista anche gli amici di Murphy hanno fatto bingo i nostri uomini, gli uomini legati all'Automobile Club sono tutti appassionati di auto che siano autostoriche, che siano auto moderne o comunque autosportive hanno trovato l'ufficio giusto, hanno trovato il mondo giusto i nostri commissari tecnici e sportivi sono sempre a completa disposizione per ogni consiglio, per tutto quello che serve perché poi non dimentichiamoci che avere l'auto non significa essere dei piloti ma avere l'auto è soprattutto passione e sporcarsi le mani molto spesso l'ultima cosa, si può crescere in Basilicata anche attraverso l'attrattore autostorico o gare di questo tipo che possono attrarre ulteriori persone nel nostro territorio? e credo proprio di sì, diversamente la finalità è questa la finalità è quella, come dicevamo prima, di far crescere sempre più il nostro territorio legandolo alla scoperta dell'autotrazione poi alla fine abbiamo la Fiat qui in Basilicata e quello dice tutto e Agi continui a credici e starà vicino a chi crede ancora in questo? l'Agi sarà sempre legato alle autovetture e agli appassionati di automobilismo siamo con un giovane imprenditore, Antonio Masserini, di Melfi che crede nel suo territorio, nel suo lavoro ma soprattutto crede che attraverso gare come queste appoggiare con la propria azienda questa gara si possa far crescere un attrattore importante della nostra realtà, il turismo sicuramente dare una mano agli amici che sistematicamente si prodigano ad accrescere all'immagine e della propria presenza e del proprio territorio e della propria cultura e della realtà imprenditoriale esistente è evidente a tutti facendo parte di questa comunità non posso esimermi da dare il mio contributo anche se piccolo e a livello personale e a livello aziendale ben venga la forza di riuscire a sponsorizzare, visto i tempi gli amici e quindi questi eventi Autostorica significa anche prendere magari una vecchia auto credergli che ancora può avere il suo orgoglio a stare sulla strada magari rimetterla a nuovo e con questo poter visitare la Basilicata da questo punto di vista gli amici di Melfi fanno bingo con questa manifestazione e chi come te, come la tua azienda, crede in questo diventa un'ulteriore forma per poter avere un ulteriore attrattore in una realtà come quella del Vulturo Melfesio che ha tanto da offrire anche in ambito turista Sicuramente, apro una piccola parentesi tutto è dovuto ad una deformazione professionale che è quella dell'assistenza su veicoli elettrici, meccanici o a combustione in terra essendo un ingegnere, non dico da piccolo perché da piccolo giocavo ma da grande, dopo aver acquisito la laurea ho iniziato a divertirmi a fare del service avendo incontrato Movincar mi ha dato la possibilità di specializzarmi e di conseguenza cercare di fare un qualcosa per mantenere in vita non dico riesumare, ma mantenere in vita qualche scheletro se vogliamo qualsiasi scheletro può essere mantenuto in vita l'importante è scegliere e mediare tra il costo e il beneficio però qualche vecchietto mi diceva che se c'è il gusto la perdenza non c'è quindi almeno per me prodigarmi su questo tipo di mestiere e di divertimento sarà così per il futuro prossimo la nostra realtà va, come dire, sostenuta come immagine, come presenza se vogliamo dobbiamo avere il coraggio di darle la parola questo a mio avviso è essenziale e farci rappresentare almeno da un evento simile e dei amici che fino ad oggi hanno veramente sudato e sono riuscito a coinvolgere in tanti imprenditori, artigiani e magari qualche impresa un pochettino più grande in attesa di vedere l'ingegnere Maserini in un'auto storica magari il prossimo anno diciamo grazie a lei e grazie a Movingard perché continua a credere in questa bella manifestazione nel volto nel fisco Antonio guarda, devo chiedere al mio amico Antonio De Marco se mi darà la possibilità perché mi deve sostenere almeno visto che lui ne ha tanto di tempo e un bel po' di meno se lui riuscirà a convincermi anche in questo magari l'anno prossimo scenderemo in campo in prima persona grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti